Thomas Spilotti, autore di una tripletta, allora Thomas esordio col Cavazzo assolutamente positivo? Beh diciamo di sì, è stato un bel esordio, non me l'aspettavo anch'io sinceramente Sei entrato nel secondo tempo, hai dato quella precisione, quella spietatezza che un pochino è mancata, no? Il Cavazzo nel primo tempo, tante occasioni ma soltanto un gol No dai, diciamo che abbiamo avuto molta sfortuna al primo tempo Cos'è questa impressione? Giochi in una grande squadra, relativamente al Carnico, che impressioni, che sensazioni hai? Positive, è stato un bel inizio, soprattutto una squadra che mi ha accettato subito e speriamo di vincere tutto Beh avete tutte le carte in regola, rosa ampia, tante soluzioni per l'allenatore Insomma, se poi inizia così, con tre gol di Spilotti, l'inizio è ottimo Sì, ma è meglio volare bassi ancora Naturalmente siamo soltanto alla prima giornata, quali secondo te potranno essere le avversarie più agguerrite del tuo Cavazzo? Sinceramente non le so, finché non le vedo giocare non posso esprimermi Ti trovi con i tuoi compagni di reparto? Come ti senti? D'adio, sono fantastici, si gioca bene Tutto positivo, insomma, no? Beh, poi d'altronde dopo una giornata così, hai una dedica particolare per questi tre gol? A mia figlia, e alla mia amorosa, e a mio padre, e a mia madre, e mia sorella, tutti loro Affetti familiari, insomma, giustamente Ma soprattutto la mia piccola Che si chiama? Sofia